Circa una settimana fa mi ha telefonato l'Avvocato Marra per informarmi di una sua iniziativa, un'iniziativa che considero molto lodevole, più che lodevole, e per invitarmi ad essere presente. L'iniziativa, una manifestazione in sostanza, si terrà il 18 giugno in Piazzale Clodio presso la Procura della Repubblica. Inizialmente era stata fissata un'altra data, per ragioni logistiche, è stata appunto spostata al 18 giugno, ore 10, davanti alla Procura della Repubblica in Piazzale Clodio. Che cosa propone Marra? Marra propone una manifestazione contro, vi leggo esattamente il testo, una manifestazione contro la magistratura perché non confisca le quote private della Banca d'Italia. Poi dice condividi, commenta, eccetera, io chiedo a voi la stessa cosa, poi di condividere comunque questo video. In sostanza Marra dice dobbiamo costringere la magistratura a confiscare le quote private della Banca d'Italia, così confiscando anche quel 15% di BCE di sua proprietà, non è solo l'obiettivo più grande, ma anche il più facile da raggiungere. E io sono abbastanza d'accordo, cioè se si riuscisse a confiscare le quote di Banca d'Italia, insomma, tante cose potremmo sistemarle. Occorre infatti solo un PM che lo chiede ed un giudice che lo ordina. Se faremo pressioni inizierà una gara a chi sarà il primo a farlo, perché ormai il regime ha le corde su questo qualche dubbio e la magistratura ha sempre meno ragioni per sostenerlo. Leggi la pagina dell'evento e condividi e partecipa. Quindi vi invito ad andare su signoraggio.it e di leggere esattamente quello che scrive Marra. Da parte mia io mi sento di aderire, mi sento appunto di dire chiaramente che ritengo l'iniziativa più che lodevole e invito quante più persone possibile a partecipare a questa manifestazione che si tarà a Roma il 18 giugno alle ore 10 in Piazzale Clodio davanti alla Procura della Repubblica. È un evento importante, l'importante sarà essere davvero numerosi. Grazie e alla prossima. Grazie. Grazie a tutti.